Si scava nella terra dei fuochi e dove le ruspe affondano i loro denti di ferro spuntano veleni di ogni tipo. Proprio in queste ore la forestale ha trovato dei fusti tossici provenienti dal nord Italia in una terra a Caivano. La discarica abusiva era interrata a circa 15 metri di profondità. Sopra si coltivano cavoli, broccoli e finocchi. Prodotti della terra dei fuochi che nessuno vuole più sulle sue tavole perché contengono chissà quali veleni. Scorie che causano la morte secondo gli abitanti di questa zona. All'area acqua e terra avvelenata si lega un'altra giovanissima morte quella di Marianna, 9 anni, uccisa dalla leucemia. Questi terreni erano terreni coltivati. Domanda da quanti anni stanno questi veleni in quella terra? Per quanti anni abbiamo mangiato i prodotti seminati su quei terreni? Ci meravigliamo se io adesso tra mezz'ora devo andare a Carinaro a celebrare il funerale di Marianna che è morta a 8 anni, figlia unica di leucemia. Ci meravigliamo se sappiamo ormai con certezza che nelle nostre zone i bambini affetti dalla leucemia sono tantissimi. Domani Don Patriciello incontrerà il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per chiedere in maniera accorata l'intervento dello Stato in difesa della vita di chi abita la terra dei fuochi. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano